bentornati a tutti carissimi amici e amiche un nuovo episodio del ciclo di catechesi dedicata ai sette vizi capitali stiamo affrontando il tema della lussuria il vizio capitale della lussuria speriamo di riuscire a finire questa sera così ci lasciamo alle spalle questo scabroso brutto argomento brutto e scabroso però ahimè necessaria la trattazione specialmente in questi tempi in cui lo si è voluto diciamo così usando un eufemismo tratto dalla vita civile depenalizzare quindi in moltissimi pensano che su questo argomento non ci sia niente come dire che non funzioni da un punto di vista morale dal momento come abbiamo già visto che la coscienza sociale quindi conseguentemente poi anche gli ordinamenti giuridici sono come dire in questo momento storico assolutamente tolleranti sotto praticamente tutte le forme di esercizio della lussuria tranne alcune come vedremo anche questa sera che comunque per la loro intrinseca aberrazione tipo l'incesto tipo lo stupro continuano a costituire almeno essi regati da codice penale insomma però al di fuori di queste situazioni estreme dove ci sono insomma delle cose talmente macroscopiche insomma che se un ordinamento dovesse come dire legalizzare lo stupro è che al peggio non c'è mai fine insomma no però si toccherebbero veramente degli degli estremi a quanto insomma borderline però ecco su tutto il resto che vedremo c'è ampia come dire convergenza nel quanto riguarda la concordia che non c'è niente di male e peraltro guai a chi si azzarda specialmente quando si tratta del prossimo andare a provare a dire una parola circa qualcosa che non funziona questo vale sia per argomenti come dire tradizionalmente di questo genere per esempio uno che va a dire a una coppia che non possono avere rapporti prematrimoniali per esempio ma vale ancora di più quando si tratta poi di certi tipi di argomentazioni perché oggi con tutta quanta la propaganda cosiddetta lgbt dovrebbe chiamarsi così se si prova se si azzarda a dire che gli atti omosessuali i rapporti omosessuali sono intrinsecamente disordinati succede il finimondo perché insomma sembra che queste cose vogliano costituire una categoria protetta noi sappiamo bene che da un punto di vista cristiano qualificare una condotta morale come negativa non legittima mai in nessun caso verso nessuna persona alcun tipo di atteggiamento negativo o distruttivo nei confronti di chi quella condotta abbraccia soltanto non possiamo come dire come come si dice oggi discriminare nessuno o fare violenza a nessuno o maltrattare a nessuno evidentemente ma nemmeno giudicare in senso evangelico evidentemente la persona il cui giudizio spetta sempre soltanto al signore perché noi non possiamo sapere cosa la persona si porta dietro quali sono diciamo così le circostanze soggettive in cui viene a trovarsi chiedo scusa a chi sta seguendo la diretta ma stasera insomma tra le varie cose ho dimenticato di attivare il video quindi vogliate perdonarmi anche la cosa importante di vedere questa brutta faccia però magari sia sia un pochettino più di partecipazione no quindi certamente stiamo in un contesto di questo genere però proprio perché stiamo in un contesto di questo genere alcune verità vanno ribadite che noi sappiamo in quanto credenti e questa è la nostra convinzione che dal male non può mai in nessun modo derivare nulla di bene quindi che una persona riconosca o non riconosca che una cosa è male questo non toglie il fatto che se la commette male ne avrà male gliene verrà questo è un principio non ci crede pensa che non sia vero ma non possiamo giustamente violentare nessuno però così è il non pensare che da una cosa creativa derivi nulla di male non toglie assolutamente nulla così come come ben sappiamo chi pensa che non esiste l'inferno per esempio non è che quando poi muore si trova davanti al diavolo che lo sta risucchiando all'inferno dice scusami io però non ci credo che esisti insomma né che esiste né che esiste l'inferno quindi mi dispiace ma non ci posso venire con te uno può provare a fare una prova e vedere se questa se questa cosa funziona non funziona amici cari no ecco quindi la chiesa adempie al suo compito continuando a insegnare la verità tutta intera e anche le esigenze della legge di dio tutte intere così come erano perché la giustificazione per il male oggi si chiama progresso ma non c'è niente di più falso e sciocco di una frase di questo genere perché se una cosa era male ieri è male oggi sarà male sempre c'era un antico adagio che in latino suona semel verum semper verum se una cosa è vera è vera sempre ma si può anche parafrasare con semel bonum semper bonum e semel malum semper malum cioè se una cosa era buona buona rimane se una cosa cattiva era cattiva rimane purtroppo inevitabilmente tocca tocca dirlo perché in questi giorni stanno succedendo queste cose proprio mentre stiamo affrontando questo vizio capitale su tutti i giornali insomma no e soprattutto su tutti gli organi di informazione online continuano a registrarsi nomini ahimè di cardinali di santa romana chiesa non uno solo che continuano a andare a sbandierare tentativi di giustificazione morale dell'omosessualità io per ragioni di carità ma tanto sono eventi notori anche per uno certo stile che ho voluto dare eh ai miei interventi apostolici non non è mai costruttivo ecco per per affermare il bene dover gettare fango eh singolare contro le persone almeno così non non mi sembra procurarsi che che mi sbaglio in ogni caso purtroppo non è difficile reperire queste informazioni perché stanno facendo il giro eh del mondo io vorrei ricordare insomma che eh tu puoi essere cardinale puoi essere quello che vuoi insomma no ma cardinale se uno volesse essere proprio quasi rasentare come dire irriverenza puoi essere anche papa ma tu non hai nessun potere contro la verità nessuno e guai a te e lo dico tranquillamente guai a te se ti azzardi soltanto a pensare le cose di questo genere non ti dico poi a dirle perché questi eh cari fratelli e padri eh dimenticano che devono trovarsi anche loro dinanzi al giudizio di Dio e non si possono fare queste cose dinanzi al nostro signore perché il nostro signore è tanto buono bello e caro ed è pieno di misericordia ma il nostro signore non ha dato a nessuno la facoltà di andare a derogare a quello che lui insegna a quello che lui dice a quello che lui vuole e quindi a quello che si deve insegnare anche al rischio di apparire in popolari o di beccarsi eh come dire le inciaggi mediatici e non solo di organizzazioni adesso come ben sappiamo hanno come dire il monopolio eh di tutto insomma a livello politico a livello culturale a livello mediatico spesso e volentieri no questo fa parte della nostra testimonianza cristiana non dobbiamo avere paura di di apparire eh fuori moda e né di prenderci eventuali insulti eh persecuzioni o cose di questo genere perché continuiamo ad essere fedeli alla verità come dobbiamo e sulla quale ripeto non abbiamo nessun potere come scrive san paolo noi abbiamo poteri per la verità non contro la verità non ce li ha nessuno il papa non ha poteri contro la verità eh cioè teniamo sempre presente oggi c'è ehm nessuna autorità umana per quanto sacra possa essere può minimamente discostarsi da quella che è la verità rivelata da Dio in campo di fede e di morale le autorità religiose ecclesiastiche chiamatele come volete costituite in ordine gerarchico per carità eh dentro la chiesa cattolica hanno semplicemente il compito di custodire tutto questo patrimonio di trasmetterlo e alcuni di essi quelli che ne hanno la potestà per diritto divino di interpretarlo autenticamente ma nessuno ha nessuno ha facoltà di alterarlo di stravolgerlo o di reinterpretarlo alla luce delle eh mutate condizioni storico-culturali ecco le mutate condizioni storico-culturali sono cose di cui si prende atto ripeto rendono certamente più difficile e più impopolare rimanere coerenti e insegnare ciò che è da insegnare ma non lo possono minimamente alterare e chi si azzarda a fare questo chiunque sia sappia che dovrà rendere grave conto a Dio del suo peccato e dello scandalo grave che arreca nel cuore dei fedeli. Bene detto questo passiamo a trattare finalmente delle sei specie della lussuria sempre secondo l'insegnamento di San Tommaso d'Aquino ovvero le tipologie concrete con cui questo vizio capitale si manifesta e si esplica cercherò ecco magari di essere spero chiaro e sintetico per poterle esaurire tutte magari in questa sera anche se l'ultima richiede un po' di attenzione però magari su quelle da codice penale andiamo un pochino veloci perché non serve troppo approfondire. Ora le specie della lussura l'elenco prima sono sei numero non casuale no? Ecco ricordiamo che 666 sappiamo bene che tipo di numero è. fornicazione, deflorazione, stupro, adulterio, incesto e vizio contro natura. Ora qual è il minimo comune denominatore di tutti quanti queste fatti specie? Allora dobbiamo sempre partire dal positivo secondo la sana dottrina cattolica la sessualità umana è lecita solo all'interno del sacramento del matrimonio che è possibile solo ed esclusivamente tra un uomo e una donna in condizioni di apertura alla vita e esclusivamente per il compimento degli atti come si chiamano tecnicamente coniugali. Se uno apre il i libri di manuale i manuali di morale sessuali di un tempo oggi considerate come come dire quasi da mettere a robo ma a prescindere certamente da alcuni particolari forse di troppo avevano comunque il pregio della chiazza un principio fondamentale dentro questo ambito era questo che il piacere sessuale è lecito solo all'interno di un atto coniugale compiuto nel matrimonio e aperto alla vita questo vale sia per l'uomo che per la donna e si specificava ulteriormente che il seme dell'essere umano maschile quando esce dal corpo umano maschile può trovare solo un luogo dove andarsi a depositare che è l'organo genitale femminile se uno tenesse presente questo che una volta che c'è una fuoriuscita al di fuori di questo ambito si pecca questo questo ha dei fondamenti chiarissimi nella saga scrittura per esempio genesi 38 si legge del peccato di onan da cui deriva quel peccato particolare che in teologia si chiama onanismo in termini più più profani si chiama interruzione del porto o in termini un pochino più forti che a me danno un po fastidio però lo dico per ragioni di correttezza coito interrotto perché quello è moralmente illecito perché c'è una dispersione del seme maschile quindi questi sono i principi d'accordo che in un altro ciclo di catechesi poi stiamo cercando di vederne come mai è questa disciplina così severa per quello che attiene alla vita sessuale perché qualche spiegazione forse c'è però questo è argomento del ciclo di catechesi il peccato originale l'origine da ogni male quindi qui non non ripeto né affronto queste problematiche no allora detto questo cominciamo a vedere le specie così andiamo abbastanza veloci che cos'è la fornicazione la fornicazione e le lettere di san paolo abbiamo già visto denominata porneia è la congiunzione carnale tra due persone al di fuori consenzienti ovviamente al di fuori del decremento del matrimonio oppure aggiunge san tommaso di far rientrare dentro questa categoria anche gli atti libidine contro la pudicizia cioè quegli atti diversi dalla congiunzione carnale e diversi dai peccati impuri contro natura che possono avvenire anche tra persone dello stesso sesso come vedremo attraverso i quali si giunge a provare il piacere sessuale attenzione che la seconda forma di questi atti è sempre peccaminosa anche dentro il matrimonio cioè anche dentro il matrimonio non si può raggiungere il piacere sessuale in una maniera differente dalla coprimento degli atti coniugali abbiamo già detto prima perché per il principio che la ricerca del piacere sessuale questa è una cosa da sempre insegnata dalla morale cattolica si dà solo come coronamento dell'atto coniugale aperto alla vita compiuto da due persone unite dal vincolo del sacramento del matrimonio ora certamente dentro il matrimonio questo per chiarezza espositiva si parla sempre morale tradizionale tuttora valida dei cosiddetti atti preparatori all'atto coniugale qui il linguaggio deve essere sempre un pochino sobrio cioè sono tutte quante una serie di operazioni che se compiute come fini sarebbero illeciti come fini significa che compiute al fine di poi giungere attraverso quel tipo di operazione al piacere sessuale ma se compiute come mezzi per creare le condizioni come dire proprio organiche sia dell'uomo che della donna per il compimento dell'atto coniugale evidentemente sono lecite solo dentro questo ambito sono lecite fermo restando che da questa sfera sono esclusi lo vedremo tra poco che che dica qualcuno gli atti impuri contro la natura che non si possono utilizzare tra coniugi non solo come fini ma neanche come mezzi preparatori dell'atto coniugale ora la congiunzione carnale al di fuori del matrimonio oggi li chiameremmo sono quelli che si chiamano comunemente i rapporti prematrimoniali ma si possono anche chiamare più in maniera più completa rapporti extramatrimoniali evidentemente tra persone nessuna delle quali sia sposata perché altrimenti la specie cambia si passa al peccato di adulterio quando uno dei due fosse sposato questo si tratta di un peccato gravissimo non è una sciocchezza io ho sentito più di qualche credente possedicente tale cattolico dire sì certamente sono peccati queste cose qui ma certamente non sono i peccati più gravi che esistono e figuriamoci se il nostro signore bada a queste cose specialmente quando due persone si amano da dove chi pensa a queste cose paga legittimazione quando per esempio abbiamo una Santa Maria Coretti che è morta a coltellate per non acconsentire ad un atto di fornicazione con un ragazzo che poteva anche essere gradevole non è detto che erano tra l'altro in buoni rapporti prima del complimento di prima di questa tragedia lei e Alessandro Serenelli quindi se una ragazzina si fa ammazzare a punte ruolate dicendo Alessandro non si fa che fai peccato vai all'inferno un ragazzina analfabeta certamente che si va all'inferno non perché uno si è mangiato 10 grammi di spetti in più no, si si va all'inferno per un peccato mortale quindi questo non è ma che sarà mai ma tutto sommato sono altri peccati gravi cioè c'è la superbia che è un peccato per carità la superbia abbiamo visto il primo vizio capitale insomma no ecco ma oggi c'è una tendenza a minimizzare questa sfera il che potrebbe essere un'operazione da piaccioni d'accordo o da politico all'incorrect come oggi si preferisce dire ma non si può fare per nessun motivo una cosa del genere per nessun motivo per nessun motivo abbiamo sentito San Paolo dire chiaramente fuggite la fornicazione nella rassegna biblica e abbiamo anche detto che di certe cose tra figli di Dio non solo non si fanno ma neppure se ne parli lettera gli Efesini 5 e 3 insomma ricordiamo quindi chi se ne esce con queste cose dovrebbe anche che poi giustificarle no? ho già parlato nelle puntate precedenti di un altro slogan e per qualcuno i peccati sono soltanto dalla cintola in giù si sente dire questa spesso ci ho sentito diverse volte insomma negli ultimi negli ultimi tempi da varie fonti evidentemente anche fonti come dire fonti amiche no? il cosiddetto fuoco amico insomma io ritengo certamente la frase di per sé cioè ha scoperto l'acqua calda i peccati non sono soltanto quelli che vanno dalla cintola in giù questa è evidente questo qui esistono anche altri peccati questo è chiaro questo qui però bisogna vedere poi il contesto la possibile strumentalizzazione di questa frase no? gli effetti che può produrre cioè nell'attuale contesto storico-culturale non è necessario come magari poteva essere in altri contesti storico-culturali dove forse c'era stata un'ipertrofia di questo aspetto non è il caso di come dire calmare le acque e minimizzare perché qui le coscienze sono tutte addormentate ho già dettine cioè centinaia di migliaia credo di ragazzi e neanche più troppo ragazzi e ragazze che oggi convivono tranquillamente al fuori del matrimonio la convivenza al fuori del matrimonio non è altro che una fornicazione legittimata e pubblica questo è il problema della convivenza al fuori del matrimonio o anche del matrimonio civile perché fuori del sacramento del matrimonio non si possono avere contatti sessuali di nessun tipo cioè questo con buona pace cioè uno degli argomenti cioè i fratelli e sorelle che avvertono nel cuore le tendenze omosessuali devono essere aiutati nel senso di dire guarda che cioè omo o etero se non c'è il sacramento del matrimonio per un cattolico per un credente la sessualità deve essere tanquam non esset dicevano i romani come se non esistesse siccome il sacramento del matrimonio non è contraibile per volontà di Cristo se non da un maschietto e una femminuccia tu devi comprendere fratello mio che questa manifestazione di questa tua esigenza non può incontrare la benedizione dell'antissimo non può cioè sei capace fagli una dimostranza fagli una lettera scrivigli qualcosa ma questo è e nessuno di noi può cambiare questa cosa nessuno di noi ma anche nostro signore insomma cioè a nessuno ha stato dato il permesso di peccare quindi Dio non ti dirà mai puoi farlo ma hai di arbitrio di poterlo fare perché è possibile purtroppo peccare questo è proprio ciò che fa di noi delle persone libere nel senso di dotate anche di libero arbitrio libero arbitrio non è la vera libertà è la libertà che che realizza quindi che porta verso la felicità come dice Gesù nel Vangelo no? è la verità che ci fa liberi cioè la libertà è qualche cosa che ci gratifica che ci obbidita e che ci porta verso la felicità solo quando si esplica nell'ambito del lecito del vero e del buono cioè io sono libero quando scelgo non tra il bene e il male quindi tra una cosa buona e cattiva quella è libero arbitrio ma quando scelgo tra due cose ugualmente lecite una è lecita e una è per esempio migliore buona o addirittura ottima questo sì ecco detto questo passiamo alla seconda specie la deflorazione più grave della prima la deflorazione vuol dire quel rapporto attraverso cui si toglie la virginità ad una donna compiendo un gesto le cui conseguenze purtroppo sono irreversibili ora noi dobbiamo sempre su queste cose avere un equilibrio fondamentale perché quando si compiono i cosiddetti peccati irreversibili non bisogna mai cadere nella disperazione d'accordo perché l'aborto è un peccato irreversibile perché quella vita umana che non è stata fatta venire sulla terra sulla terra non ci verrà non ci si può fare niente a questa cosa se tu perdi la virginità è la virginità la terza perché l'imene mi si perdono insomma anche qui in linguaggio un pochino esplicito non ricresce ecco però al tempo stesso non si deve mai cadere nella disperazione cioè la mia vita è finita la mia vita è perduta cioè queste frasi dentro la nostra santa fede divina e cattolica non possono mai essere ammisse perché il pentimento sincero consente sempre la rinascita di un'anima abbiamo visto domenica scorsa il vangelo dell'adultera perdonata lo vedremo tra poco questa catechesi capita che non siamo lontani dalla Pasqua con la festa della divina misericordia la divina misericordia ovviamente rettamente intesa è esattamente questo cioè è la possibilità per un peccatore quindi per uno che l'ha fatti i peccati non è che non li ha fatti l'ha fatti per scherzo di rinascere e di risorgere ora questo però d'altro canto non deve mai portare a minimizzare l'importanza di non farli i peccati cioè e né una persona che li ha fatti e poi può comunque pentirsi deve sentirsi meglio o peggio fare cose di questo genere cioè una persona che mantiene la verginità è in paradiso dice Santo Tommaso che i vergini i vergini i vergini i vergini di fatto di corpo e di spirito hanno una una gloria propria distinta ma è giusto che sia così questo non vuol dire che chi ha perso la verginità non potrà diventare un grande santo un grandissimo santo si guardi Maria di Magdala tanto per per vederne uno no però ecco ci vuole sempre questo equilibrio d'accordo cioè da un lato nessuno si disperi però dall'altro nessuno dica ah vabbè se perdi la verginità non fa niente perché tanto poi se dipenti nostro signore ti riabilita e quindi diciamo che è la stessa cosa no non è la stessa cosa non è la stessa cosa non è la stessa cosa ecco anche se chi si trova nella condizione di aver sbagliato non deve mai disperarsi né deve pensare che gli è preclusa la possibilità di accedere ad una santità o anche a una grande santità c'è un altro esempio eccellente oltre a che di Magdala più vicino a noi che è la beata Angela da Foligno lei scrive che i primi anni della sua esistenza mi ricordo se fino a 30 o fino a 40 uno dei due dice lei scrive è meglio che ci dimentichiamo come sono vissuta e attenzione a quanto pare non è una di quelle espressioni che tutti quanti i santi dicono che sono stati grandi peccatori no ma molti sono stati grandi peccatori in potenza non in atto e invece è che la beata Angela da Foligno fosse stata proprio in atto che fosse una sorta di re di viva Maria di Magdala quindi che Maria di Magdala sicuramente non essere andata a far raccontare no c'è un altro caso pubblico di cui si può fare credo il nome io ho avuto anche la gioia di averla in parrocchia con me qualche anno fa ormai diversi anni fa avevo una testimonianza no che è l'attrice Claudia Coll una grande convertita quasi tutti sanno purtroppo che tipo di bassa cinematografia insomma che era caduta all'inizio della sua carriera tanto è vero poverina che adesso poi si va a beccare io mi ricordo nella playlist della playlist di YouTube dedicata alla purezza c'è un video di su Claudia Coll come tutti quanti i commenti dei miei social sono tutti quanti o disabilitati o soggetti a moderazione io ho letto tutto quello che andavano a scrivere evidentemente li ho bloccati ma era meglio quando facevi altro no perché purtroppo ecco sì sì c'è questa c'è questa c'è questa cattiveria poi da parte delle altre persone noi non dobbiamo mai Dio non faccerà mai cose di questo genere quindi non è proprio del suo stile ecco però questo non deve precludere un discorso cioè di dire alle persone guarda che se custodisci la verginità cioè io sono convintissimo di questa cosa qui cioè sia chi arriva vergine al matrimonio sia un consagrato che custodisce integra la verginità c'ha delle grazie particolari speciali da parte del Signore che senza questo non si hanno se ne hanno altre perché non bisogna prendere una rivoltella e spararsi però questo bisogna dirlo perché non si può non parlare del bene come dire per paura di ferire chi ha operato il male chi ha operato il male ha la possibilità sempre del ritorno però questo non significa non incoraggiare e parlare e parlare anche dell'importanza del bene quindi la deflorazione spiega santo è una cosa più grave perché tu privi una donna di un bene che non torna quella donna di vedere per esempio la testimonianza di Jason e Cristallina altra cosa bellissima questa coppia di giovani americani lui anche se aveva fatto un po' di come dire di un po' di peccati diciamo così non arrivanti consumantisi nella fornicazione in senso stretto quindi nel vero e proprio rapporto carnale era arrivato vergine al matrimonio lei no e dice io purtroppo a lui non potrò dire un ti amo al cento per cento perché dire un ti amo al cento per cento quando si è sposati significa amore vino cioè io mi sono conservato fino ad oggi dicendo tanti no superando tanti tentazioni solo per te perché solo tu mi conosci in senso biblico solo tu mi hai visto così come mi ha fatto papà e mamma non mi ha visto mai nessuno è una cosa che è stata riservata solo per te cioè poter dire un ti amo di questo genere è tanta roba amici miei e noi queste cose dobbiamo dirle oggi senza che nessuno cada nella disperazione chi ha sbagliato chi arriva al matrimonio con già un'esperienza sessuale navigata alle spalle basta che si pente si penta sinceramente ovviamente può come dire recuperare benedizioni da parte dell'altissimo ma non è la stessa cosa tutto qui non è la stessa cosa non lo è ecco ora andiamo veloci con i casi evidentemente della violenza carnale cioè lo stupro perché questo insomma stupro violenza carnale e attivi di violenta in base anche alle mie riminiscenze antiche sono reati da codice penale evidentemente perché c'è una violenza quindi c'è un'aggressione anche alla libertà della persona ma no diversi martiri il caso più e che l'ho già citato quello di Santa Maria Goretti sono morti piuttosto che cedere ad una violenza certo questo ci vuole eroismo però questo per far comprendere quanto era grande per esempio agli inizi del 1900 la coscienza sociale ancora dell'intrinseca gravità di questo di questo peccato l'incesto anche andiamo veloci insomma no è una è una aberrazione sanzionata ecco credo se non da tutti voglio sperare da tutti non ho la certezza assoluta di poter dire non esiste nessun ordinamento giuridico al mondo in cui sia illecito in cui sia lecito il delitto d'incesto non lo so sicuramente la maggioranza no dalla coscienza sociale nonostante tra virgolette l'evolversi dei tempi chiamiamolo così anche se poi bisognerà vedere se è un evolversi o un involversi dei tempi secondo me è la seconda però comunque ci siamo capiti è comunque percepito l'incesto come qualche cosa di di negativo di turpe cosa che invece non vale per l'adulterio cioè la condizione carnale con persona già legata ad un'altra con il vincolo del sagramento del matrimonio io tante volte ho raccontato che quando studiavo diritto penale c'è ancora nei codici penali del 1992 quando era la costruzione del diritto penale del 1992 1993 quei codici che ancora si stampavano allora c'era l'articoletto del reato di adulterio e sotto la nota questo reato è stato abolito dalla legge fortuna che ha legalizzato il divorzio del 1970 quindi non è più un reato e quindi come sempre sappiamo perché l'ordinamento giuridico nella teoria generale del diritto ma non solo anche questa è una cosa su cui la Chiesa ha convenuto da un punto di vista di sostanza l'ordinamento giuridico come dire dovrebbe tutelare quello che si chiama tecnicamente il minimo etico cioè se una cosa è proibita dalla legge o è concessa dalla legge quello che è proibito è cattivo e quello che è concesso è decito ma il problema è che oggi gli stati i cosiddetti stati di diritto oggi non c'è più neanche lo stato di diritto perché con quello che stiamo vedendo in questi ultimi anni lo stato di diritto lo sono state andando a mettere sotto i piedi ma anche lo stato di diritto laico diciamo così quindi quello che si chiama stato di diritto perché dipende da un atto fondativo di uno stato adesso non voglio fare questo discorso ma che è appunto una costituzione anche in Italia c'è una costituzione e il diritto dello stato deve essere conforme ma incompatibile con la costituzione sappiamo bene insomma che c'è stato più di qualche piccolo problemino per usare un eufemismo da qualche tempo a questa parte insomma con più di qualche articolo della costituzione che è stato tranquillamente derogato senza che ci sia nessuna legge costituzionale che abbiamo autorizzato a fare però i moderni stati di diritto hanno sancito adesso non mi posso mettere a fare una lezione di diritto che a differenza di come era un tempo lo stato non dipende nel suo essere stato di diritto da una verità etica che lo precede e a cui deve conformarsi quindi è stata di fatto abrogata una legge che per noi cattolici e per la chiesa è sempre stata fondamentale che è la legge naturale c'è qualche ecco no? la repubblica tutela la famiglia fondata sul matrimonio per esempio no? era l'articolo 29 si potrebbe anche dire la famiglia naturale fondata sul matrimonio no? però di fatto questo è stato tolto ecco perché sono potuti entrare dentro gli ordinamenti contemporanei questo anche per capire cose che sono eticamente inammissibili da un punto di vista etico l'aborto è eticamente inammissibile può entrare dentro un ordinamento giuridico solo condizione che quell'ordinamento giuridico sia sganciato dalla legge naturale altrimenti non si entra tutto qui cioè in altri tempi la legge sull'aborto non si poteva fare d'accordo è impossibile adesso in questi tempi si è potuta fare e anzi è stata fatta nella praticamente totalità degli ordinamenti giuridici del mondo intero ecco comunque l'adulterio nonostante che oggi sia assolutamente legalizzato perché con il divorzio dal punto di vista civile si può lecitamente da un punto di vista civile contrarre una nuova unione tranquillamente così come si può tranquillamente andare a convivere nella coscienza sociale evidentemente una persona rompe un matrimonio rimane libero e se ne va a convivere pur senza contrarre un nuovo matrimonio con un altro così come convivono liberamente cioè non ci sono problemi ma problemi ci sono come? perché il grido di San Giovanni Battista ad Erode Antipo ad Erode Antipo che gli è costata la testa la testa di San Giovanni Battista è caduta a causa dell'odio di Erode che è la concubina di Erode Antipo e che ha aizzato la figlia per chiedere la testa di San Giovanni Battista per questo motivo perché San Giovanni Battista nonostante che fosse incarcerato e che stava praticamente alla merce di Erode non ha avuto come dire remoli di dire Erode guarda che tu non te la puoi tenere la moglie di tuo fratello questo non è lecito sapeva che rischiava di essere ammazzato e si è fatto tranquillamente ammazzare ecco perché ho detto prima cioè per difendere la verità e la morale noi dobbiamo essere pronti a farci ammazzare la vita cristiana è questa perché lasciare che una persona si corrompa nel cuore e quindi che creda che il male è diventato bene e che si possa addirittura avere la benedizione per questo qui vuol dire che quella persona rischia la dannazione eterna anche se non è consapevole e nessuno può lasciare che una persona rischia la dannazione eterna senza almeno avergli messo una puccia nell'orecchio che gli dato la possibilità di riflettere bene guarda che sarebbe il caso che prima di fare questa cosa ci pensi perché questa cosa non si può fare e andiamo all'ultima specie del vizio impuro contro della lusso che è il vizio impuro contro natura come accennavo diverse volte San Tommaso d'Aquino individua ben quattro specie di vizio impuro contro natura cioè generalmente quando si parla del vizio impuro contro natura nel linguaggio comune ed è così percepito anche dalle organizzazioni da certe organizzazioni che quando sentono questa cosa saltano perché sentono un'aggressione al mondo che rappresentano allora il conto natura secondo San Tommaso d'Aquino e secondo il pensiero della Chiesa non è solo di una specie ma è ripeto tutte quante quelle forme di esercizio della sessualità che esulano dall'ordinazione naturale che la sessualità ha almeno dopo il peccato originale questo è sicuro e è una cosa che non può cambiare in questa terra che quale sarebbe la sessualità nel disegno di Dio è ornata alla procreazione perché ci sia la procreazione ci deve essere un maschio e una femmina e gli atti che possono portare alla procreazione sono solo di una specie quelli che si chiamano atti coniugali d'accordo ossia la congiunzione carnale tra un uomo e una donna aperti alla vita dentro il sacramento del matrimonio per chi è battezzato fuori di questo caso sono tutti quanti atti impuri contro natura per cui non c'è da stupirsi sapete qual è la prima specie dell'atti impuro contro natura pensiamo a quanti salterrano dalla sedia cosa dice la masturbazione il peccato impuro sono i dati prima specie non la più grave ma prima specie di peccato impuro contro natura perché perché quell'atto destituisce la sessualità dal suo fine sia che sia compiuto da un uomo sia che sia compiuto da una donna il piacere sessuale si ricordi è lecito solo con il coronamento dell'atto coniugale aperto alla vita quindi se io disperdo il seme se io mi procuro piacere essendo una femminuccia artificialmente senza questo atto esco all'ordinazione naturale della sessualità quantomeno ripeto nella condizione che tecnicamente si chiama post-lapsaria perché da genesi 4,1 è certo che c'è vita sessuale tra uomo e donna e che vita sessuale tra uomo e donna c'è perché deve venire al mondo la vita umana perché non ci sono altri modi per farla venire e che oggi si siano inventati la possibilità di riprodurla in vitro che è un'altra aberrazione sempre per questo motivo perché Dio non vuole che nell'attuale stato di natura i figli nascano in modo differente probabilmente non voleva che senza il peccato originale nascessero così ma adesso non è più così adesso è così e stop fermo restando che il problema della fecondazione in vitro non entriamo a sé questo non è solo il problema naturale ma c'è anche il problema degli aborti che vengono prodotti tuttavia questo solo problema per essere completi è il problema dell'inseminazione l'inseminazione è moralmente illecita perché? perché è vero che il seme viene comunque tratto dal marito e viene artificialmente inserito nell'organo genitale femminile ma è proprio questo inserimento artificiale che si disgiunge quindi dall'atto adesso necessario che è moralmente illecito capiamo bene il discorso completo per questo per esempio per l'elicità della masturbazione per esempio tanto per fare una cosa generalmente queste cose si sanno ma gli esami con cui un uomo dovrebbe sottoporsi al controllo del proprio liquido seminale e sono quasi tutti quanti i fatti correndo a questo a questo a questo a questo atto non si possono fare perché quando una cosa è intrinsecamente cattiva non diventa buona in base al fino buono per cui questa cosa venga fatta bisogna trovare un altro sistema io adesso non faccio l'andrologo non sono un tecnico quindi non mi si chieda queste cose qui però Santa Padre Chiesa ha sempre insegnato di trovare qualche altro sistema insomma il mondo è andato avanti anche prima che ci fossero queste tecniche ci sono tante tecniche questo è un campo evidentemente enorme della medicina contemporanea che pongono moltissime questioni etiche questo è il campo della bioetica ma non solo è possibile solo ciò che è moralmente lecito quando una cosa è moralmente illecito anche se tecnicamente è possibile e anche se fosse vantaggioso sotto certi punti di vista non può essere praticata analogo discorso vale per l'amniocentesi però non abbrintiamo troppe cose perché altrimenti dovremmo fare una serie di lezioni sul sesto comandamento già fatta a suo tempo in un altro ciclo di catechesi la seconda forma sono i rapporti sessuali contro natura compiuti tra persone di sesso diverso allora per capire quali sono dato che non mi piace usare una certa come dire terminologia comunque i peccati di 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 gomorra li sappiamo tutti quanti quali sono di sodoma e di gomorra da sodoma deriva il termine tecnico di sodomia quando uno pensa a questa cosa pensa subito ai rapporti omosessuali la sodomia può essere praticata ahimè anche tra persone di sesso diverso così come si pensi per esempio ad una coppia di omosessuali donne che non possono certamente praticare la sodomia ma hanno altre forme di manifestazione come dire di di sessualità d'accordo che si esplica attraverso l'oralità questo può essere tranquillamente fatto anche in un rapporto di tipo erosessuale ed è illecito anche lì ed è controllatura anche lì quindi non è che quando ha i peccati contro la natura si stanno discriminando si stanno schiettizzando una certa categoria di persona niente affatto perché si schiettizza allora un adolescente che per debolezza commette un atto impuro solitario perché secondo Sant'Omaso d'Aquino quello è un atto impuro contro la natura si destabilizza una coppia di sposi che in buona o in non buona fede ritenendo insomma di essere marito e moglie pensa di poter compiere questi tipi di atti dentro il matrimonio siamo un uomo e una donna siamo sposati si possono fare no e attenzione che secondo la dottrina straordinariamente prevalente anche se qualcuno dice il contrario lo so perché ci sono queste cose sul web e qualcuno mi contatta questi tipi di atti quindi gli atti impuri con natura tra coniugi non si possono compiere neanche come atti preparatori qui mi spassi insomma l'espressione di Gesù chi può capire capisca e cerchi di fare uno sforzo ecco quindi non si possono compiere neanche come mezzi non solo come fini quindi come strumenti per procacciarsi il piacere sessuale ma neanche come mezzi la terza forma quindi quando questi atti sono compiuti tra persone dello stesso sesso ma la loro relazione rientrano in questa in questa specie e infine l'ultimo l'ultimo è cosa ancora questa è una cosa universalmente forse è l'unica di queste specie che si spera che sia universalmente accettata che è la bestialità la bestialità insomma che è evidentemente insomma la congiunzione tra un individuo appartenente appunto alla specie umana e un animale appartenente alla specie animale insomma ecco bisogna dire che dentro gli atti impuri di controllatura oltre a quelli diciamo così un po' più come dire moderati rientrano evidentemente anche tutte quante le forme che questo veramente mi rifiuto di nominarle anche soltanto di pensarci di perversioni sessuali sono quelle estreme insomma quelle che danno vita a ripeto a peccati innominabili che preferisco nominare però anche qui chi vuole e può e sforza un pochettino insomma l'intelletto non farà difficoltà a comprendere no? Allora ci siamo quindi questo è un pochino il quadro ecco la tradizione della chiesa su queste materie è stata sempre estremamente 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 severa tutti quanti conosceranno i peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio se ricorderanno dal catechismo gridano vendetta al cospetto di Dio significa che ne attirano i castighi la sacra scrittura piaccia o non piaccia Sodoma è stata rasa al suolo nostro Signore con un fuoco proveniente dal cielo se uno va in terra santa in una zona non lontana dal mar morto dove sorgeva Sodoma non ci cresce più neanche un filo d'erba piaccia o non piaccia questo così è la prima specie di peccato che gridano vendetta al cospetto di Dio è l'omicidio volontario e per quanto questa cosa non piace per quanto addirittura qualcuno cianci in giro di voler rendere il cosiddetto diritto civile che tale non può mai essere considerato all'aborto addirittura un diritto umano si sappia che quello è un peccato che gridano vendetta al cospetto di Dio perché l'uccisione di un essere umano innocente è attenzione che non si può difendere è da parte di chi dovrebbe custodirlo solo che non è una cosa che potrebbe mai essere legalizzata ma dal punto di vista etico ha delle aggravanti cioè rispetto all'omicidio di un essere umano innocente cioè se io uccido un essere umano innocente bisogna vedere se ci riesco a ucciderlo d'accordo perché vado con una pistola per sparargli quello c'è una pistola dentro la fondina la estrae a piedi e mi spara lui d'accordo quello si può difendere un essere umano indifeso nei codici penali ci sono le aggravanti derivanti da fattispecie di questo tipo il problema è che in uno stato di diritto disgiunto da ogni come dire vincolo di tipo etico quindi non riconosce una etica e una morale che lo precede di tutto e di più è quello che può accadere così come le successive ulteriori insomma novità legislative che sono continuamente in evoluzione e che appunto possono possono entrare perché oggi il principio il principio che ispira è questo qui si deve tutelare indiscriminatamente la libertà della persona di fare quello che vuole senza nessun tipo di riferimento senza nessuna possibilità di qualificare l'oggetto della sua scelta come buono o cattivo l'importante è che non leda direttamente il benessere fisico o la tranquillità di qualcun altro o la libertà per esempio lo stupro o che ci siano forme di esercizio di violenza fuori di questo caso il compito dello stato è semplicemente garantire che tutti possano fare quello che vogliano senza nessun tipo di problema salvo poi i paradossi perché dopo se uno fa delle scelte deve essere coerente fino in fondo salvo che poi però in certi momenti soltanto non si può più fare quello che uno vuole ma se può fare quasi più niente e senza possibilità di farci niente quindi si rimane imprigionati e costretti in una montagna di vincoli e le libertà puffete l'oggio al domani si perdono tutte anche quelle più più normali e più lecite contraddizioni degli ordinamenti giuridici contemporanei insomma quindi che sono iper libertari da un lato e poi improvvisamente diventano più restrittivi di ben altri tipi di forme di organizzazione di stato e di governo che abbiamo conosciuto nel corso della storia questi sono i paradossi e i misteri insomma allora noi siamo figli di Dio quindi noi continuiamo a parlare della legge di Dio che deve essere rispettata e la stragrande maggioranza delle cose che tengono al pizio capitale della lussuria si fondano come abbiamo capito sulla legge naturale quindi su ciò che è nella natura delle cose così come Dio ha predisposto che fossero e così come noi la conosciamo è un discorso che può non andare giù che può non piacere nessuno può essere obbligato a credere o ad accogliere la verità se non in forza di un atto libero e volontario quindi non può essere imposto a nessuna imposto no ma detto e proposto sì si è tranquillamente liberi di crederci o di non crederci di aderirvi o di non aderirvi perché il Signore vuole che si consenta queste cose con un atto di volontà e di libertà personale però questo è questo è e questo sempre sarà e nessuno nessuno nessuna autorità in questo mondo ma proprio nessuno può derogare minimamente a quanto poveramente siamo cercati di andare specificando e delineando durante queste conversazioni bene direi che ci possiamo fermare dandoci appuntamento per chi crede alla prossima settimana dove finalmente inizieremo a parlare di una cosa molto bella ci spostiamo su una virtù che è la prima delle virtù cardinali molto importante la virtù cardinale della prudenza Dio benedica e protegga tutti e la Madonna la Vergine Santissima tutti benedica e protegga grazie a tutti